guardate è molto tirato un po', vedete, è molto tirato un po', però le fissate pure lunghe ah già, è bellissimo solamente giusto per farvi vedere un'altra cosa dai come faccio vedere, sta la rete l'avanti no Andrea, però non, non, non quindi adesso la coda si vede meglio si andiamo andando l'acqua questo lì, quello lì di Zootropolis guarda, portami a spiegare ma come è quello di Zootropolis? ecco il pallone ecco il pallone non capisco tu e io guardate, ah si arrampicava si arrampicava forse davvero un antenato del gradito vedi che dovete reagire qui tutto quanto dai fammi vedere il prossimo stanno stanno alla savana e esistevano pure a quell'epoca li cadevano pure a me le corna ogni volta e io sto qui gli cadevano le corna tante però come i denti degli squali che riescono continuamente aspetta gli attacca bravo ti faccio un altro tipo di tiro va bene adesso le faccio un altro tipo di tiro adesso le faccio i drivi adesso adesso ok ciao